Ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in Via Emilia 2. Da commerciante ambulante che giudizio dà al mercato di Riva Nazzano Terme? Oggi è un mercato magro. Magro? Come mai secondo lei? Non lo so per dita la verità. È un problema secondo lei proprio di Riva Nazzano Terme oppure è un problema più nazionale e generale? Generale. Da quanto tempo lei fa il mercato a Riva Nazzano? 27 anni. Quali sono i cambiamenti principali che ha notato negli anni? L'invecchiamento della popolazione soprattutto è una diminuzione consistente dalle terme. Perché prima veniva qualcuno, c'erano anche i clienti che davano le terme e facevano anche la spesa. Venivano giù da Pavia e adesso non ci sono più. Quindi questo ha influito anche? Un po' sulla diminuzione del mercato. Scende sempre un po'. Secondo lei è dovuto a una mancata valorizzazione da parte del comune e dell'amministrazione o è un problema più generale? Non ho un problema generale. Per me è un problema generale, non è l'amministrazione, il comune. Da quanto tempo lei fa il mercato a Riva Nazzano? 20 anni. E ha notato comunque una diminuzione nelle vendite? Sì. Un calo? Quest'anno. Soprattutto quest'anno? Sì. Lei fa il mercato soltanto qua o anche in altre comuni? No, Godiasco, Varzi, Santa Maria della Versa e Ottone. Il comune in cui vende di più? Santa Maria della Versa, Varzi, Ottone. E quali che si vende di meno è Riva Nazzano e Godiasco. Ma guarda, noi non mettiamo sempre qua, però come mercato è un bel mercatino, la gente è bella, poi è attaccata al mercato. Attaccata al mercato nel senso che sono affezionati al mercato? Invece in altri posti, sai, centri commerciali, tipo l'Iper così, vanno tutti lì. Invece qui comunque c'è la tendenza e l'abitudine a frequentare il mercato? Sì, le donne così vengono apposta per il piacere di comprare il mercato. Secondo te è ben organizzato anche dal punto di vista dell'amministrazione? Viene valorizzato il mercato oppure no? Sì, secondo me sì. In quali comuni fai il mercato di solito a parto a Riva Nazzano? Facciamo Borgonovo, Voghera, Casteggio, Bressana, Broni, Varzi. In linea generale qual è il comune in cui ti trovi? Meglio in cui si vende di più? Ma di più, guarda, si fa più fatica nelle città che nei paesini. Quindi nei comuni più piccoli conviene fare il mercato perché c'è più richiesta? Sì, c'è più gente che viene al mercato. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.